Abbiamo un progetto comune, un progetto che è comune ma che è per tutti in realtà. Noi siamo promotori insieme all'UISP e creiamo un'opportunità di servizio al mondo sportivo attraverso un momento formativo che è quello di queste figure che saranno addette alla sicurezza nell'impiantistica sportiva. Teniamo presente che quell'obbligo di un profilo del genere ancora non esiste nel mondo dello sport o del no profit ma pensiamo che sia ormai prossimo, vicinissimo al momento in cui arrivi questo obbligo anche nel sistema sportivo, sistema che oggi è sempre più abbinato al concetto del benessere oppure dello sport che produce economia. Pensiamo che siamo all'1,6% del PIL del nostro paese e quindi ci aspettiamo da un momento all'altro veramente che questo profilo possa essere cogente per tutti. Noi andremo a fare un corso al momento per 15 persone ma duplicabile immediatamente che consentirà a chi l'avrà frequentato e superato di ricevere un diploma da parte della regione toscana riconosciuto sul livello nazionale e quindi spendibile in tutta Italia. Un primo progetto a livello regionale che insomma ci dà soddisfazione di questo binomio con il CONI ma soprattutto di aver scelto l'impiantistica sportiva e la sicurezza. Oggi sempre di più è importante garantire la sicurezza non solo degli atleti ma anche degli addetti a lavori e questo corso va proprio in questa direzione.